Ciao Youtube, benvenuti in un nuovo video, questo è un video veloce in cui voglio fare un annuncio perché devo cambiare un attimo la programmazione del canale, quindi è giusto che io ne parli in un video unico in modo tale che le persone possano andare a vederlo, possono sapere di che cosa si tratta allora in pratica io non riesco più a gestire il carico dei video che faccio ogni settimana che sono 14 video, di cui 12 dell'oroscopo, poi il video del sabato di Cieli Tarocchi, il video del lunedì di M e di F quindi quello che io ho intenzione di fare è di togliere 12 video, però attenzione ci sarà un'alternativa anziché farne 12, ne farò 4, perché saranno i segni d'aria, acqua, terra e fuoco ed usciranno tutti la domenica in modo tale che le persone che prima vedevano il video del lunedì e che si lamentavano e che non sanno che cosa vuol dire utilizzare le proprie energie per fare una lettura, registrare un video, andarlo a modificare, andarlo poi a convertire a caricare su youtube eccetera eccetera, quelle persone saranno contente ogni volta che vedevo ma quando esce questo segno, ma quando esce l'altro come se io avessi qualcosa contro i segni di terra e di acqua, vabbè lasciamo a perdere questo discorso quello che vi voglio dire è che io non riesco più a gestire quel carico di prima perché 14 video la settimana sono veramente tanti io ho altri impegni, ho anche una vita privata e sinceramente questo tipo di impegno mi ha stressato veramente tanto in questo periodo cioè io il lunedì, questa sera, oggi è lunedì non ho neanche cenato cioè per farmi capire, e questa non è la prima volta che succede molte volte non ceno, oppure mangio completamente sballato sto seduta per ore e ore e ore a modificare i video 12 sono veramente tanti e spero che voi possiate capire questo spero che mi possiate comunque supportare per quelle persone che volevano avere 12 video potete trovarli altrove, mi dispiace ma io non posso più fare quello vi farò 4 video dei segni quindi fuoco, terra, aria, acqua vi posso assicurare che non cambia molto perché le energie sono interconnesse io seguo una youtuber che fa quel tipo di letture e ci prende benissimo tra l'altro se notate nei miei video potete capire che molte volte le energie sono simili tra di loro per cui prendete sempre ciò che risuona con voi quindi lo schema d'ora in poi sarà il seguente il sabato ci sarà scegli i tarocchi come al solido poi il lunedì ci sarà DMDF domenica ci saranno questi 4 video fuoco, terra, aria, acqua usciranno tutti insieme presumibilmente nel pomeriggio e quindi per me saranno 6 video la settimana quindi quasi un video al giorno comunque è sempre un impegno però almeno è più fattibile perché 12 video, anzi 14 vi posso assicurare che sono veramente tanti c'è gente che fa solo i video dell'oroscopo e ne fa 2 al giorno e magari ci sono anche in quel caso persone che si lamentano perché vogliono avere il loro segno prima non capiscono il lavoro che c'è dietro allora io non voglio scontentare nessuno per cui penso che questa sia una buona alternativa ci potrebbero essere delle persone che mi potrebbero dire non puoi fare un unico video con i 12 seni zodiacali la mia risposta è no perché anche quel video comporta un sacco di stress per me praticamente devo parlare per 2 ore non ho più voce è come fare dei video individuali ed è ancora peggio perché i tagli sono maggiori rispetto ai video individuali per cui poi si tratta di accorparli tutti insieme vi posso assicurare che è uno stress anche quello quindi non mi cambierebbe molto fare un video unico con 12 segni è molto meglio fare 4 video separati per me sono molto più fattibili per cui a partire da domenica prossima utilizzerò questo tipo di metodo spero che voi possiate capire spero che voi possiate accettare questa cosa altrimenti pazienza vi ringrazio in ogni caso e ci vediamo molto presto in un prossimo video ciao a tutti